Va bene parco, vai va bene parco Io provo un eliotto d'olopiglio per se qualcuno dovesse prendere la venta Se c'è la squadra che accortiamo eh Voi scendete tutti e tre a parco, scendete proprio sul tetto ragazzi Hai visto non sul tetto, cioè hai capito al secondo piano Quello è difficile da queste razze, no? Oh Ale, ci mancava c'è da quella planimetria, puoi che vede tu? All right, lads, let's get it done Located a supply chain, secure that position Mi sembra non sia sceso nessuno Queste tre pavoli Next objective location Cado, non scendere neanche perchè Talus si è già rubato tutto No, non so che fate me ne sto già andando, guai Il solito Talus Cado, non si deve recuperare questi centomila bamboni che ha chiesto in banca e... Si fotte tutte le armi qua Ma intanto è spavodato eh Raga, qua c'ho il corpo di stato se lo volete eh Subito, io, io, io Quello è roba mia raga Vai vai, tieni, tieni Io sono davanti al comprino raga Io Sì, prendo io questo Eeeh, chi ha preso l'elicottero? Simo Simo vai affatti con l'altra lente da solo Dani vedi con me? Sì, no, sono così Eh, più che altro, eeeh, forse ce li abbiamo Vai Dani Ma lo prendo già eh Vai, figgialo già E poi lo tiro quando ci sono loro No, non scade, lo puoi tirare anche ora Ragazzi, trovate una sacca, me la pingate Anzi Non ti pingo proprio neanche, quando ieri mi hai rubato qualche potere dal resto Ahahahahah Ma non te li ho rubati io, tra l'altro Non ti pingo proprio niente Ma tra l'altro non te li ho rubati io Ci sono testimoni che è pronti a giurare il contrario Eeeh, non valga Contract complete, all supply box is located No, no, quella è mia, quella è mia No, è troppo saldo Oh, c'è anche la terza lente? Sì Facciamoci anche quella, voglio Emilio Oh, aspetta, era troppo vicino a me, l'avete già tirato? Sì Non è che non cade Non ti preoccupare E' già scaduto No, scherzo, non scade Mi sento lasciato indietro Ahahah Mi fate partire l'avente, vai Vai Max E come ci arriva l'assop Mi prendo l'avvi, eh Bello, me la fai aprire una cassa? Bello, me la fai aprire una cassa? Sì, ma Non c'è la Non c'è la Niente obiettivo Identified Non ho preso niente io, eh Losing ground Non stop Raga, io cambio questo helicottero perché Ha preso colpi Fumma che dunque urco C'è gente, eh? Oh, raga, c'è gente poi vicino Dove? Eh, va di Vai davanti Tira UAB Tira UAB Tira UAB Vai raga E' uno sicuramente lì a sinistra Ce n'è uno qui con noi, eh Sì, ma Fa il comprino, sì, lo sto per fare Quello comprino è dentro, occhio eh Raga, l'altro dov'è finito? Su me era un volo No, no, no Si sparavano, si sparavano in due La gestite voi? Io vado a fa' la lente Va dentro, eh, Simo Ho sfondato Eh, occhio che forse ce n'è un altro Ma scusa, e l'altro dov'è? Eh, infatti quello che... Erano due, chi è che ha fatto l'altro? E' vero Vale, lo vedi dall'arto? No Vedo proprio il capo Chiamo UAB Eh, non ho già usato Mi anche lo sento Io mi compro delle piastre però ragazzi Perché c'ho zero da... Ah boh, dai Dall'altra partita non c'ho piastre Un cazzo c'è di qui? C'è un altro sacco? Non me le mandare a dire Ma io mi vado a fia pure questa Oh, raga Tiro l'UAB perché prende l'UAB Ma no, ce n'è uno per aria Ma c'è che cazzo sputtani Lascialo lì Cadù, se riesci a scendere di sopra la lente Perché non lo riesco a vedere da sotto Si, si Ma cazzo c'è? Ma cazzo c'è? Sul tetto No, la figlia, la figlia Allora, una squadra qui Vado a, vado a comprino a prendere un UAB Vado a prendere un UAB Vado a prendere un UAB Ok, ovvero E' un prestale presto Oh, Dani Zlatan minaccia arancione, eh, raga Eh Ma prendiamo l'elicuatro e scelgiamo dal cazzo, vai, finiamo sta lente Rossa Sì, sì, sì Eccoli qua, sono qua Una cosa No, raga Due a terra Raga, dai, fermo un po' Ci tiro da dietro No, ce l'ho anche dietro, ce l'ho anche dietro Ma cazzo, no, ma cazzo, ora sopra Ti wifed, tutti me li fai fatti, tutti Minchia, cazzo, se ci fossero quattro cadu come te Oh, io l'ho fatto, eh Io ne ho tolto solo le piastre, mi hanno sparato male Ma io tolto anche le piastre, c'hai zero di danno Allora, vediamo se riesco, che stanno Raga, fate piano, per favore Con culo Carve, sposta l'elicottero, io vado a fare sta lente, così si piglia giù ragazzi Se ci riesco Carve è morto Chi è vivo? Simo Simo, ma il cazzo non ha messo A te Che devo tirare giù? Sì, ma avevo detto di spostare l'elicottero, cazzo, ora si disintegra No, dio maiale Eh, se ti arriva un trofeo, non ti preoccupare No, no, è rotto, cazzo Ma avevo detto di spostarlo Raga, vado a loadout o vengo da voi? A loadout ci sarà una cassa, vai Aspetta, prendo via, lo tiro Siamo tutti vivi, il resto, no? Sì, sì, sì Fate partire anche la lente, semmai Ragazzi, ora mi sto avvicinando, droppate le due munizioni e due piastre Raga, dobbiamo andare via? Raga, qui è la sette lenta, è lenta la sette Raga, qui è trovato la cassa Dallù, se riesci chiamano un ente Sì, sì, sì Vedi quella più bassa Eh, ce n'è una davanti Bassa Aspetta, quella c'è non da fare Eccola trovata Sì, mi sa che prima hai in borsa Raga, troppatemi un po' di roba, eh Comunizioni a salto e piastre Vieni, sì, 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 vieni Piazza te la lascio io, tieni Raga, è in borsa Oh, macchina davanti a me Sì, finisci la cassa Eh, perché c'è sempre gente qua Anzi Mi vado via a litigare, forse Dallù Ancora una volta che ti si botta a te Ok, era una piaccia No, voglio dare una piaccia No, voglio dare una piaccia a questi palazzi Ah no, non c'è nessuno No, ok, pulete, pulete, pulete Andiamo al compreno Io mi prendo Io prendo precisione strike E vi lascio soldi Il kit è le piastre Facciamo così di qualcosa poi No, 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 aspetta, calma Le piastre qui, raga, c'ho la cassa di piastre, se volete No, no, ti ha la per dopo, ti ha la per dopo Non la per l'ultimo Ok Avete tutti l'autores, raga Sì, sì, sì Prendete la cassa di munizioni, raga Allora prendo la mascherina antica Ok, via Mi prendi un pacco di piastre, Simo? Un pacco di piastre, basta Sì Io diciamo troppo mi resto, troppo mi resto Prendete il resto le piastre, prendete il resto le piastre Andiamo Ma hanno trovato delle munizioni, raga Quindi Mi chiamo Il cazzo di sciacallo di merda Oh, tutti i guardi Tutti i guardi Ce l'ho da io Capete un troppo, raga Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Andiamo un po' che li fa Cado a fattirare la cascara Ce l'ho, ce l'ho Ah, posso, dai Faccio la piastra Sopera Ehi, cazzo di raga Cazzo di raga Voglio, li c'è una casa rossa Ok, perciática Alguardo Viva Senti, ragazzi. Raga, mi lasciate due munizioni. Per cattolica, io ne ho 60, non posso. Andiamo sul tetto di coso. Ma se avesse così male la munizione, raga, è quello che dicevo. Allora, andiamo. Torniamo lì dietro e prendiamo la cassa di munizioni, veloci. Fate veloci. Torniamo lì dietro e veloci. Volete fare un'altra biandiera? No, no, non serve a nulla. Non serve a nulla. Oh, ce ne riesci qua. Vieni, venite su. Dallù! Oh, ci si è da uno davanti. Sta uno qua sotto, raga. Dove? No, lascialo sta, lascialo sta. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Lascialo sta, lascialo sta. I'implirò sta. Torna veloce al comprino di prima, bisogna fare molto veloce. Scendete voi, raga, io sto su. Scendete. Sì. Lasciatemi santi, figlio la cassa di munizioni al volo. Sì. Veloci, veloci. Vai, ora si va via. Ripigliali, ripigliali, pigliali, 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 qualcosa. Vieni, Talos. Vi lascio tra di filiare con un UAB e poi andiamo via. Sì, è sicuro. Sì, è sicuro. Vieni, 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 andiamo via. Allora, ora si va sopra il tetto dell'aeroporto. Sì, 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 mi lascio. Mi lascio. Guardiamo prima che non c'è nessuno, eh. Quando volete ho la cassa di UAB. Lo lancio io, eh. Aspetta, aspetta che vado giù. Io direi, vola più alto, bamba. Lancia, 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 lancia Talos, lancia Talos. Vado. Oh, raga, 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 l'elicottero è a pezzi, eh. Vai, buttalo, 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 buttalo. Vai, vai, scendi, scendi, scendi. Sul tetto? Sì. Sono ciotto, sono ciotto. Occhio. Tanto qui non si possono beccare, restiamo qui, restiamo qui. Sono cose buone del tetto e non ci vuoi meni nessuno sopra, capito? Devi solo stare attento a quella torre lì. Ok. C'è uno lì sotto, se lo volete prendere. Torre libera, eh. Downhead, downhead, merda. E ora lo tirano su. Che culo. Raga, quindi non ci sono salite? Non posso salire. No, no, quello non ci è salita, non ci è salita. È per quello che sono voluto, vieni qui. Raga, io guardo la torre. Che culo di merda che c'è avuto quello lì. Che culo di merda. Io guardo lì, vai, 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 vai. Sì, sì. Ecco, adesso ci sarebbe da andare a comprare l'Uav di nuovo. No, ora non scendi, non puoi risalire qui. Eh, lo so, lo so. Io ce l'ho l'Uav, ma non me lo uso adesso. No, 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 tranquillo. Godetemi quando volete la cazza di munizioni, raga. De vale, non sarebbe male. Ah, venite a prenderla. Vieni, vieni, intanto dopo si è fighty. Venite qui. Tanto se dopo si finiscono, se si riesce a ammazzare qualcuno, poi le repelli. Io ho fatto, io ho preso. Eh, io arrivo subito. Non fate come il fratello del carbo la stavolta. Bravo, come il mio fratello. Caricato. Io ho un cecchino di merda, mamma, che brutto. Però non ha qua di R almeno. No, giusto, dopo mi faccio la classe col carbo. Dio. La torre, raga, libera. Sì, è l'unico posto che ci deve preoccupare, ma secondo me non ci va a tanta gente, perché sono i tecchi. Vabbè, io, raga, io ci sono. Io guardo quella. Io, raga, guardo la torre. Uh, ho sentito il rumore di un loadout, è venito qua? Ho sentito il rumore di un loadout per venire da qua. Abbiamo gente sotto. Oh. C'è anche qualcuno che fa la ricognizione, là. Sì. Giusto? Non salete sul cornicione, eh. Non salete sul cornicione. Talus, stai su, stai su. Talus, stai su. No, ma raga, io vado di nuovo la torre. Non voglio. Quando cecchinate, quando cecchinate, muovetevi sempre. Non state mai fermi. Se vuoi, ti do bombardamento. No, 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 lascia perdere. Bravo, sì, ti attolo. Tanto che non ci vuoi nessuno, va bene, sì. Giusto. Adesso non serve neanche fightata, cioè, nel senso, basta... C'è un attimo, vedi, era un attimo. Sì, sì. Downhead! Lì c'è un attimo. Lì c'è un attimo. Ce n'è due. Quelli sono in campo a petto, vale. Se li vuoi butta giù, ce la fai. Sì. Ce n'è un attimo qui sotto. Che sta rianimando, sono qua sotto in due, eh. Eh, ma ora si incocciano, sono un sacco di persone. Raga, io continuo a guardare la torre, eh. Da un'edulina, le zona. Finga, dove? Le, 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 le. Raga, ma che f***e? Raga, la torre è fuori, comunque, eh. Sì, adesso finisce. C'è fino a spurtire il trovato che... Boh, 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 occhio, Simo, stai giù, stai giù, stai giù, buttati giù, Simo, buttati giù, Simo, buttati giù, Simo, buttati giù, Simo, buttati giù, Simo. Ho fatto, ho fatto un capolavoro, boh. Stai tranquillo. Sì. Dov'è? Dov'è l'altro cecchino? Al blu, al blu, alla piscina. Scusa, all'arancione, all'arancione, alla piscina. Eh, uno atterrata dietro di noi, atterrata dietro di noi. Piscina, uno atterra. C'è un altro, ce n'è un altro. Uno l'ho fatto. Sono scemo. Raga, ora bisogna pensare dove andare. Dove ci vogliamo tenere? Sulla destra o sulla sinistra? Chi è che non usa il cecco, raga? Io non ce l'ho, mi sono cercato. Eh, mi dai, vuole tenere il cecchino. Allora, ora dobbiamo metterci qui. Ok perché abbiamo gente sotto, eh? Raga, fermi, fermi. Qui c'è gente qua sotto, c'è gente qua sotto. 47 metri, 190. Questa quelli fuori, eh? Sparano. Gente lì, uno lì. Posso lanciare UAV? Sì, tira l'UAV e pensiamo a quelli sotto. C'è un'altra. Uno sta arrivando. Sparata dute. Maledetti cecchini di merda. No, perlì, perlì. Sto piastrando. Lasciali fare, lasciali fare, cadu. Sì, sì, sì. Sto giù, eh, vale. Sto giù, sì. Bisogna accendere, bisogna accendere, bisogna accendere ora. Merda, mi hanno preso. Voi andate, andate, andate. Io mi tiro su. No, no, no. Ma che? Ma che mi ha preso? Ma come ha fatto a sbagli? Ma io sono morto per sbaglio, eh? No, non c'è chi, non c'è chi, non c'è chi. Non ci siamo messi? Siete messi di merda voi, raga. Raga, se ce la fate, cambiate classe e prendetevi un submachine gun. E non te l'avessi tutti in ora. No, io c'ho il bazooka e l'M4, mi rimane. Ricarica, Simo. Mi piace poco e niente. Qui è? Lasciateli star, lasciateli star, lasciateli star. Entrate dentro, entrate dentro. Occhio dalla montagna, eh, Simo. Tenetevi, tenetevi fuori tiro dalla cosa. La piscina. Siamo anche a sinistra, anche a sinistra, non hai guardato a sinistra, bravo. Occhio lì. Uno che guarda a sinistra, uno che guarda a destra, bravi. Anche dietro. Lascia l'està, lascia l'està. No, no, è entrato tutto solo. Bravo. Vai dove siamo che è buono, vai dove siamo che è buono, card. Solo. Ora, cercate di stare, cioè avete tutti e due la maschera? No, sì. Siamo a metà, c'è una metà, c'è una metà, c'è una metà. Provate ad andare qui, provate ad andare qui. Piano piano. Non fatemi sentire. Io la so io. Fate un cross veloce, fate un cross velocissimo. Guardate ti copro, cross a te. Cross, 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 bravo. Ora lì, ora lì. E' buono. Buono in più dentro, buono in più dentro. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Simo, bravo. Bravo, Simo, bravo, bravo. Bella storia, ricazza. Bravo, Simo, bravissimo. Prendevo tutto. Prendi la maschera, Simo, che non ce l'hai. Bravo. Bravo, ragazzi. Vieni dentro, vieni dentro. Non ti preoccupare di quelli fuori. Rimanete qui, rimanete qui, rimanete qui. Siete in due qui. Cazzo, sono due squadre, 4 e 4, li dovete far fightare per prime. Non dovete, non dovete sparare per prime assolutamente, perché sono due squadre da 4. Sono fermi, eh? Fate le fightare per prime. Eh, ora si stringe, vai a sinistra, vai a sinistra, a sinistra. No, 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 salgo sul tetto. No, ti vedono, ti vedono, ti vedono, ti vedono. Chi ha chiatirato la live di Parker Strike? Ma perché, Kybe, perché? Se ti becca in testa, ti rovina. Stanno sparando, si stanno sparando. Tutti dall'altra parte, ragazzi. Si stanno sparando, fanno delle imparie. Vai, vai, sono qui. Aspettate che finiscono di spararsi, state succedenti. Eccolo lì, eccolo lì. Merda, con l'animazione di merda. Bravo, bravo, bravo. Ringastrati, ringastrati. Vai, vai. Raga, siete 3 contro 2. Piastrate, mi è stato... E state, scea. C'avete l'altezza, c'avete l'altezza. Eccolo lì, eccolo lì. Ripiastrati, ripiastrati, ripiastrati. Ripiastrati, ripiastrati. Uno fatto. Ripiastrati, ti devi ripiastrare. Dico dov'è, dico dov'è, ma non me lo riesce. E qua sotto di me. È lì, è lì, è lì, è lì. Sparalo, sparalo. Sì! Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Sì, bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Mettete la vittoria che ho fatto 84 danni in tutta la partita. Grazie a te. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Bravissimi tutti. Bravi, bravi. Bravi. Allora, bravi, bravi. Bravi, bravi. Io non l'ho giocato praticamente. Sanco sul carro dei vincitori senza aver ucciso neanche me stesso E anche vale indicazioni per te Tutti, tutti, tutti quanti, bravi tutti E io così, come ho finito ieri in inizio, con una vittoria, va bene guarda Bravi raga Alla partita Allora raga Alla palla ci credi Avete giurato benissimo raga Allora io vi posso dire una cosa, io non voglio fare un risicone Vi giuro che io non so come sono morto Ora ce lo rivediamo, tanto l'hai registrato Sì sì, mi stavo rianimando Tranquillamente All'improvviso ha fatto E ho guardato il replay e c'è sempre